buongiorno fanciulle e fanciulli e benvenuti in un nuovo video cosa faremo oggi oggi io ho visto dei video a giro su randonautica non so se l'avete mai visto io ho visti tipo da gianmarco zagato praticamente è un'applicazione dove ti dice tipo un po la caccia al tesoro però più misteriosa ovvero ora vi farò vedere di cosa si tratta ok ci porta qua vicino al lago di porta vicino alla con ragazzi andiamo in abbe è tipo circa due minuti da casa mia in abbe quindi adesso noi saliamo su la begar aiutatemi e andiamo a vedere se io voglio fare questo video perché voglio capire se è vero se è reale che si trova qualcosa oppure se è solo fantasia tutto inventato quindi andiamo a scoprire se troviamo qualcosa andiamo praticamente ci ha portato in mezzo a delle case ora qua c'è un giardino potremmo andare dentro e controllare se troviamo qualcosa vediamo dai scendiamo vediamo capelli della maia andiamo a cento amora con la fetta della maia allora stiamo riprovando per la millesima volta da un'altra parte perché ci porta sempre in casa di persone non possiamo mica entrare e dire scusi qua c'è qualcosa di misterioso da guardare cos basta rin arrivo siamo arrivati ragazzi siamo arrivati questo è il posto sarebbe canzù farlo di sera cosa che hai fatto boh mi sono soggiampato anche la merda dai sono le scarpe nuove allora ragazzi ci ha portato qui dentro veramente non sappiamo cosa aspettarci perché c'è ci sono vari posti vari vari scorciatoi dove voglio andare proviamo come ti sentite destra sicuramente non siamo in un posto tranquillo cioè la tranquillità è un po' macabra ma che cazzo vediamo un po' che hai trovato no una sacchetta la cosa principale è non perdersi poi per il resto c'è mastercard io spero di non trovare una biscia un serpente e lo scappo ve lo dico mi rischio già una nuova puntata di pollice verde benvenuti nella vegetazione qui ancora niente ragazzi ancora niente di niente io non so quanto sia vero e reale questa magari provateci voi a casa mi sapete dire peccato che le more non ci sono più se no ne facevo una bella scorpacciata ma siamo tipo usciti ragazzi siamo uscite e ci ritroviamo su un poggio su un poggio il nulla più totale qua presso si ma torniamo indietro dai facciamo un'altra strada e vediamo se succede qualcosa dice di sentire una presenza dietro di noi magari ma brutta negativa 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 degli occhi che ci osservano ora alla fine scopriamo un cadavere eh infatti vabbè ci sta dai si so di aver fatto del bene che si scopre un cadavere magari ci chiedono come sapevate che era lì l'ho ucciso io sempre meglio allora non ti perdere prima che ti incolpino ora ragazzi andiamo dall'altro lato che mi sembrava un po' più non lo so dentro vediamo cosa? passi le passi? oh io sei si meno male che è giorno eh infatti altrimenti sarebbe stato più grave e ora andremo dentro lì ok ragazzi siamo all'ombra siamo all'ombra siamo dentro dentro la foresta per ora a parte dei passi che si sentono a volte non c'è niente e nulla proseguiamo e vediamo cosa troviamo se troviamo qualcosa il maira si caga addosso no non è che mi caga addosso però io siccome spesso guardo pit pit facciamo qualcosa insieme dai eh infatti tanto il croce mi sono messa pure la maglia con il rosario diretto perché lei fa le bestemmie nel rosario hai capito? non è che no io sono credente anche se bestemmio la bestemmia è un intercalare toscano non c'entra nulla infatti con il fatto di credere o meno però la gente non lo capisce comunque c'è il rosario da due anni così così ci proteggi dal male? si ok ancora niente ragazzi qui è più lunga eh raga stiamo camminando da non so quanto e non abbiamo ancora trovato niente quindi secondo me questa randonautica non è che funziona così tanto Amo oh vieni qua che è successo? dai c'è una figura cosa c'è? io mi sto cagando addosso io voglio andare via fa vedere e là non si vede si è mosso qualcosa là? io c'ho paura io c'ho paura ora 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 ho gli occhiali ma secondo me era più una forma non lo so ma non era umano tipo fantasma non lo so vediamo io non so se ci credete a queste cose ma io ci credo mi cago in mano se non ci credete guardate il video del pit sembrava un animale ma non era un animale non so se dalla telecamera si vede però quando mai mi ha fatto vedere qualcosa si è mosso spero che l'ho registrato perché non stavo registrando ascoltate secondo me questa randonautica qui può finire qua che dici? sì sì se la prende fiato basta bimbi cioè non abbiamo trovato niente ma dentro tutto questo posto qui sicuramente qualcosa c'è sicuramente qualcosa abbiamo incontrato ma non ce ne frega sapere se si veniva di notte morivo di infarto ok ragazzi siamo tornati a casa cioè tutto acceso welcome to home diciamo che ci siamo cagate un po' addosso ora sinceramente cosa forse non so però diciamo che è andato un po' male questo randonautica malissimo comunque vi ricordo che arriveranno presto altri video di halloween dove intaglieremo le zucche dove ci truccheremo a vicenda quindi lo registreremo giovedì quindi la prossima settimana quella di halloween oppure questa avrete il video che testa e poi ci sarà la puntata speciale di halloween in un convento abbandonato lì sì che porterò il rosario anche di notte molto importante quindi iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto così che appena arriverà questo video appena arriveranno tutti i video voi vi guarderete subito cavolo no sveglia è primavera non è vero siamo in inverno è autunno quasi inverno e poi giovedì andremo a fare anche le castagne quindi partiremo per l'avventura e mi raccomando seguiteci per non perdervi nessun video e dopo si fanno i ballotti e poi si fanno le castagne al camino quelle sono le mondine le mondine si fanno sì accendiamo anche il camino io vi ringrazio per aver visto il video spero vi sia piaciuto anche se è stato un po' particolare per noi sicuro non ce l'aspettavamo ma siamo sane e salve a casa e iscriviti al canale lascia un like se ti va condividete il video a tutti così che andiamo su più su che ce n'è bisogno ma e nulla io vi mando un bacio datevi che vi voglio bene e noi ci vediamo in un prossimo video ciao raga ciao